Una ragazza marocchina scappata di casa, il presidente e le feste nella sua villa, una telefonata da Parigi al capo di gabinetto della questura. Soprattutto, secondo l'accusa, sesso, riti orgiastici per il soddisfacimento del premier. Sembra un romanzo, invece è un processo alla vigilia della sentenza. Caso Rubi, IPM, Bocassini e San Germano hanno chiesto sei anni di carcere per Berlusconi per concussione e prostituzione minorile, senza le attenuanti generiche e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gli avvocati, la soluzione è perché Berlusconi, secondo la sua versione, non ha mai fatto sesso con la ragazza, non sapeva che era minorenne, credeva davvero che fosse una parente di Mubarak e non ha messo pressione sulla questura. La storia comincia il 14 gennaio 2011. La procura spedisce un invito a comparire a Berlusconi. Lo scandalo è sui giornali da tre mesi. Rubi, l'estate prima, ha rilasciato quattro verbali ai pubblici ministeri. È una ragazzina di 17 anni. Fede l'ha conosciuta a un concorso di bellezzata a Ormina. Lei è venuta a Milano, ha fatto la vita, secondo le intercettazioni e secondo la rubrica della sua coinquilina. È entrata in contatto con Mora, è stata invitata ad Arcore al Bunga Bunga. Per quattro mesi, da febbraio a maggio, Rubi non salta quasi mai una festa comandata nella villa. Poi, il 27 maggio 2010, Karima viene fermata per furto. I poliziotti la portano in questura. Una escort brasiliana, Michelle Conceisau, avverte Berlusconi a Parigi. Il presidente parla al telefono col capo di gabinetto della questura, Ostuni. Gli dice che la ragazza è una parente di Mubarak. Per evitare un incidente diplomatico con l'Egitto, gli propone l'affidamento a una consigliera ministeriale addetta alla presidenza del Consiglio. È Nicole Minetti, consigliera regionale. Ostu, capisce a me, traduce il napoletano nella requisitoria alla Bocassini. C'è un giro di telefonate fra il magistrato minorile Fiorillo e il funzionario di turno in questura, Iafrate. La Fiorillo dispone che Rubi sia mandata in comunità ottenuta in cella di sicurezza. Il commissario, Iafrate, la libera autonomamente e nell'ambito delle procedure, secondo la sua versione. Rubi torna a casa dalla Conceisau. Dopo una settimana si picchiano e stavolta la storia passa sui tavoli della procura. L'inchiesta colpisce prima fede, Mora e Minetti, poi impatta su Berlusconi. Rinvio a giudizio, corrito immediato. All'inizio del processo nel Rubi nei poliziotti si costituiscono parte civile. La prova provata del sesso fra Carima e Berlusconi non c'è. Lei smentisce sempre durante l'indagine sulle scale del tribunale e in tv e al processo gemello. Secondo la Bocassini, la ragazza furba di una furbizia orientale ha preso 4 milioni e mezzo di euro. Rubi ammette solo qualche gettone di presenza e 30 mila euro per i macchinari di un centro estetico. Di sicuro le olgettine ricevono un bonifico di 2.500 euro ogni mese per nascondere la verità sul Rubi e il bunga bunga, secondo i PM. Il pallino è nelle mani di tre donne, i giudici che entreranno in camera di consiglio domattina. Repliche non sono previste, pronostici aperti. Serve la tripla, titola oggi un'agenzia. Come ai derby.